Tra l'altro faccio un sacco dei fumetti in cui vivo per il culo le serie degli altri eccetera e mo mi sento un verme perché mo che mi rendo conto di quanto è complicata questa cosa e di quanto è doloroso quando qualcuno ti dice ammazza che merda mi devasta questa cosa Come è nata l'idea della serie e questo salto che hai fatto in modo dell'animazione? Come è stato? Allora, l'idea della serie è nata da un po' in verità nel senso che mi piaceva l'idea da una parte di poter fare un prodotto io nei fumetti ci metto sempre spesso le musiche che mi immagino che ci stanno in quel momento lì, ci scrivo i testi delle canzoni fuori dalle vignette col simbolo della nota per cercare di suggerire quel tipo di atmosfera ma so benissimo che nessun lettore si va veramente ad ascoltare quella canzone là eccetera il fatto di poter consegnare un prodotto che ha il pieno controllo di tutta quell'esperienza sensoriale, cioè di poter creare le atmosfere con la musica eccetera è la roba che in generale mi attirava di più del mondo dell'animazione insieme al fatto di essere un linguaggio molto più diretto e accessibile cioè se tu guardi quante persone si reggono un fumetto se lo posto su Facebook o su Instagram si mettono veramente lì a leggere tutto un fumetto eccetera e invece quante fruiscono di un video è sproporzionata questa cosa poi non vuol dire che i fumetti hanno qualcosa di meno, sono un altro tipo di linguaggio eccetera però mi piaceva sfruttare quella caratteristica lì e poi c'è stato il fatto che a un certo punto ho provato quindi a fare da solo ho capito quali erano i limiti del fare da solo nel senso che un conto era fare delle cose così molto brevi e della narrazione in qualche modo molto condensata come era quella di Re Bibbia Quarantine ma se volevo raccontare una storia più organica, più complessa eccetera non ero capace, all'inizio volevo fare tutto da solo però non ero buono a farlo e quindi c'è stato l'incontro con Movimenti in quel caso specifico che in realtà ha sostanzialmente colmato tutte le lagune mie che non erano soltanto evidentemente tecniche di fare un'animazione fluida o cose del genere ma anche proprio del linguaggio cinematografico vero e proprio questo mantenendo la mia ossessione per controllare tutto quindi che fosse esattamente la cifra stilistica mia che dovevo controllare ogni passaggio, le voci che devo fare io eccetera però tutto quello che riguardava appunto invece anche aspetti registici eccetera il fatto di poterlo affidare a qualcuno di più bravo di me me lo assicurava molto comunque assistendo ai primi due episodi della serie si vede che sembra quasi di assistere a un tuo fumetto perché ci stanno tutti quante le due tematiche c'è il viaggio, c'è i Sony Flashback, c'è questo mosaico di storie che poi si vanno a intersecare l'uno con l'altro e quindi la scrittura a questo punto della serie quanto è cambiata rispetto a quando tu ti approcci a scrivere un fumetto? poco, nel senso che in realtà c'è lo stesso tipo di struttura della profezia dell'armadillo nel senso che come con la profezia dell'armadillo io all'inizio volevo fare una serie più organica e meno episodica diciamo anche nella narrazione e poi mi sono reso conto che invece preferivo stare un po' nella mia comfort zone nel senso andare per piccoli passi come anche nei fumetti una storia lunga l'ho fatta dopo aver preso un po' le misure con la profezia dell'armadillo che metteva insieme una trama orizzontale ma spaccata da piccoli episodi e così qua ho deciso di procedere nello stesso modo per capire quelle che erano le cose che ero capace a fare quelle che non ero capace e quindi mi serviva veramente un po' a prendere misure quindi proprio lo stesso tipo di meccanismo hai detto spesso e lo dici anche nella serie che tu sei uno spettatore veterano sei uno che gli piace molto e te sei seduto sul divano guarda le serie, trova i film come sarò trovarsi dall'altra parte? in questo caso tu te stavi dall'altra parte ma poi sarai anche spettatore quindi dall'altra parte com'è stato? è terrorizzante terrorizzante intanto perché io comunque sono uno spettatore super critico e tra l'altro faccio un sacco dei fumetti in cui vivo per il culo le serie degli altri eccetera e ora mi sento un verme perché ora che mi rendo conto di quanto è complicata questa cosa e di quanto è doloroso quando qualcuno ti dice ammazza che merda mi devasta questa cosa e poi chiaramente mi mette molta insicurezza perché se penso che di fronte ho un spettatore che è come sono io mi viene da scappare a piangere al bagno ma non penso che accade perché la serie è molto bella non lo dicevo per far me di stare a paggiuro però grazie comunque e l'ultima cosa sono dieci anni dalla professione dell'armadillo adesso se la guardi indietro con le consapevolezze che c'hai adesso darti un giudizio cioè darti un giudizio mi sembra una cosa eccessiva però che idea c'hai adesso dopo dieci anni? guarda in realtà essendo una storia autobiografica come tutta roba mia secondo me è figo perché è la fotografia di quella roba lì nel senso della vita mia della vita delle persone che mi stavano intorno cioè io lo guardo chiaramente ci trovo mille ingenuità anche proprio narrative e dei disegni eccetera però mi sembra veramente desfogliare un album o le diapositive di quando eri ragazzino e di vederci anche tutta speranza e delusioni le cose di quel momento lì quindi in realtà non è una roba che che mi fa vergognare sono poche le cose che non mi fanno vergognare nella vita quella è una di quelle che su questo ho a mio agio è una roba